Il Discovery Hybrid Reometer è il culmine di 40 anni di sviluppo e innovazione. Combinando le migliori tecnologie della RG2 e dell'Ares G2 con nuove tecnologie avanzate, TA Instruments ha sviluppato il reometro ibrido del domani, oggi. Il Discovery Hybrid Reometer è la piattaforma più avanzata per la caratterizzazione in controllo di deformazione e sforzo di tutti i materiali, dai liquidi meno viscosi fino ai solidi più rigidi. Le grandezze fondamentali della reologia sono fondamentali per la misura della viscosità, del modulo e di altre proprietà dei materiali. Misure accurate della coppia sono possibili grazie al cuscinetto magnetico brevettato e ai sistemi avanzati di movimentazione. Per misurare le viscosità più basse, le strutture più deboli e i campioni più piccoli, è fondamentale la misura accurata di piccole coppie. TA Instruments è la prima e unica società che utilizza un cuscinetto magnetico. Confrontato con i tradizionali design dai cuscinetti ad aria, il cuscinetto magnetico di seconda generazione riduce l'attrito di oltre il 70%, riducendo in maniera significativa le correzioni per una misura più pura della coppia. Per ogni esperimento, un controllo preciso della coppia e della deformazione è vitale. Il nostro nuovo sistema avanzato di movimentazione a bassa inerzia garantisce la più precisa applicazione della coppia, le accelerazioni più regolari e la risposta più rapida, sia che si operi in controllo di sforzo che in controllo di deformazione. La misura della deformazione è migliorata dall'encoder ottico a doppia testa di lettura e da una struttura dello strumento estremamente rigida. Strutture reologiche delicate richiedono che le misure siano eseguite alle deformazioni più piccole possibili. Il nuovo encoder ottico a doppia testa, in attesa di brevetto, garantisce che le più piccole deformazioni siano misurate e registrate con la più alta accuratezza, 5 volte meglio di un encoder singolo. Questo migliora inoltre la misura dell'angolo di fase, permettendo di quantificare accuratamente e facilmente le più piccole tracce di elasticità in un fluido o il più sottile segno di smorzamento in un solido. La struttura rigida del Discovery Hybrid Riometer, ottenuta con un singolo pezzo di alluminio, offre una rigidità strumentale senza precedenti, garantendo che tutta la deformazione è dovuta al campione e non alla cedevolezza dello strumento, permettendo le misure più accurate anche sui campioni più rigidi. Una precisa conoscenza del gap è critica per le misure o il controllo della deformazione. Il nuovo True Position Sensor, in attesa di brevetto, garantisce l'accuratezza nella misura del gap in ogni esperimento. Questo sensore della posizione lineare ad alta risoluzione esegue correzioni attive dell'espansione o contrazione termica in tutti i test ed è compatibile con tutte le geometrie e tutti i sistemi di controllo della temperatura. La misura della forza normale è notevolmente migliorata dal nuovo trasduttore a ribilanciamento di forza, FRT. L'FRT è un sensore a cedevolezza zero, così che non ci sarà nessuna deviazione nel gap misurato, garantendo il più accurato controllo dello sforzo e della deformazione in misura dello sforzo normale. Il Discovery Hybrid Rheometer ha la più completa linea di sistemi di controllo della Temperature Smart Swap ad alta performance, di geometrie e di altri accessori che possono essere combinati facilmente in pochi secondi. Il design aperto permette un accesso semplice e un ampio spazio per il caricamento e la pulizia del campione. Con caratteristiche come un keypad rinnovato e un display a colori, le funzioni di routine sono a portata di dito. Questa interfaccia intuitiva è supportata dal potente software TRIOS e dall'ineguagliabile supporto che TA offre al cliente. Nuove tecnologie, misure migliori, la piattaforma reologica più avanzata al mondo. Il Discovery Hybrid Rheometer da TA Instruments.